Chateau d'Amboulet 1996, blan de blan. 930 euro, 930 euro. Niente, non c'è più nessuna reazione. Telefona, tra vent'anni. Da quant'è che cucini? Tutto il povericcio. E il genio? Tu e Tau. Io adesso non so. Abbiamo perdonato tutto, ma perdonato cosa? Il Rolex. Il SUV. Gli slip. Simona. Non so rispondere. Fuma. Sì, è l'unica che conosco che ha cominciato in gravidanza. Il bimbo resta piccolo. Infantino. Avete già deciso come chiamarlo? Sì. Bernardo. È bellissimo come Bertolucci. Ma è il maschile di Bernardo. Luca, Matteo, Paolo, come te? No. Bruto? No. Spingi quel coso. Dai, più la mano. Borre, Nietzsche. Non mi viene, ma arrendola. Dai, dicelo. Non sta scherzando? No. Ma certo che sta scherzando. Ma non scherzo affatto. Ci piace molto. È originale, ma classico. Non mi piace? No, non mi piace. Simona, tu sei l'incarnazione della disfatta del nostro paese. Siamo a prendere lezioni da uno che ha chiamato i figli. Pin e scintilla. Parla! O parlo io? Parla con l'amore. Hai dieci tweet. Allora, twittami sto cazzo. Io mio figlio lo chiamo come mi pare, capito? No, non puoi. Ciao, mamma. Come va? Benissimo. Bella serata. Ciao, siamo del due, viva! Tu pensi che io sia omosessuale? Non l'ho mai visto come una donna. A parte Betta. Con Betta tutto, anche le cerette. Adesso lo dici. Diggielo. Non sono pronti. Non sia cosa.